Ciao a tutti ragazzi, sono Elien e ci siamo quasi. Tra poche ore potremo mettere le mani sull'aggiornamento 1.3 gratuito per tutti e che sarà disponibile per Xbox One e PC dopo la manutenzione che ci sarà domani mattina e dovrebbe iniziare alle 9 a durare le classiche 3 orette. Mentre notizia fresca fresca, la settimana successiva, probabilmente martedì 5 luglio, l'aggiornamento 1.3 sarà disponibile anche per PlayStation 4, mentre il DLC solo a partire dal 2 agosto sempre per PlayStation 4. Nel frattempo ci sono alcuni sviluppi, oltre a delle note e delle patch, pubblicate sul sito ufficiale. C'è stato uno special report, quindi un evento streaming, che mentre eravamo praticamente impegnati a guardarci l'Italia vincere contro la Spagna, insomma, ho analizzato i dettagli per voi ed eccomi qui, tanto per cambiare. Parlerò di alcune cose che non vi ho detto riguardo la 1.3, potete trovare i video sulla modalità Underground e sulla 1.3 in descrizione e vi farò vedere un estratto della nuova incursione Tana del Drago, in arrivo solo per i possessori della prima espansione New York Underground, ma vedremo anche altre cose. Ah, a proposito, per la nuova incursione sarà disponibile sin da subito anche la modalità molto difficile, oltre che quella normale, quindi quella difficile, ma la modalità eroica, quindi quella con livelli 35, sarà disponibile solo la settimana prossima. Cominciamo ad alcuni dettagli della 1.3. La base operativa è stata ingrandita con un nuovo spazio social che si trova nel retro della base, vicino al venditore ricompense da riscattare. Vi ricordate il buon venditore equipaggiamento speciale nell'area tecnologica, quello che si aggiornava ogni settimana? Beh, è stato sostituito da due venditori, uno che vende oggetti e uno che vende progetti. Sono due venditori nuovi, insomma, e troveremo questi stessi venditori nel terminale, quindi nella nuova zona social, che potremo raggiungere anche con lo spostamento rapido. Abbiamo anche i venditori delle taglie VIP aggiornate con i nuovi livelli, da cui poi si accede alla zona Underground. Come prevedibile è stata aggiunta una nuova area, zona nera 231+, che comprenderà nemici che vanno da livello 33 a livello 35, in base alle zone, chiaramente zone 5 e 6, troveremo solo livelli 35. Avremo la possibilità di droppare oggetti con punteggio 229 per gli alta gamma, quindi per esempio le armi e pezzi 7 sino a 268. Quindi, come vedete, non è che chi non ha gli LC resta indietro, ancora una volta ci tengo a ribadirlo. Sono stati mostrati anche nuovi set, o meglio, l'Alpha Bridge e il Dead Eye, che vedremo tra poco, ma prima di arrivare a questi vi informo su di un interessante cambiamento, molto importante anzi. Dalla 1.3 tutti i pezzi armatura che si dropperanno avranno gli slot mod fissi, significa che non dovremo più preoccuparci se magari uno ci viene con uno slot e l'altro no. Insomma, il nuovo schema sarà questo, due slot per busto, uno slot per maschera, ginocchiera e zaino e nessuno slot per guanti e fondine. Ma attenzione, le fondine avranno tre attributi principali invece, quindi ogni volta che dropperemo questi pezzi avranno gli slot dedicati. Ok, detto questo analizziamo uno dei nuovi set, l'Alpha Bridge. Questo sarà il set gratuito che tutti potranno avere con la 1.3, quindi anche senza il DLC. Con due pezzi aumenta di due il numero massimo di medikit trasportabili, con tre pezzi aumenta la rigenerazione della vita del 100%, e con quattro pezzi, beh, se la primaria e la secondaria sono della stessa categoria, quindi non so, se abbiamo due mitra, automaticamente avremo tutti i talenti attivi per entrambe le armi, cioè, mi spiego meglio. Mitra 1, brutale, crudele, predatore. Mitra 2, equilibrato, brutale, preparato. Qualsiasi arma useremo avrà la combinazione dei talenti delle tue armi contemporaneamente, ma se un talento è presente sia sull'arma A che sull'arma B, i suoi effetti non si accumuleranno. Quindi, che ne so, avremo due mitra con brutale, crudele, predatore, equilibrato e preparato. Non so se mi spiego. Un altro set che non avevamo ancora visto, il Dead Eye, le info sugli altri set, ricordo che li trovate nei video che ho già pubblicato. Con due pezzi abbiamo un danno critico sui fucili di precisione aumentato del 20%, con tre pezzi aumenta la stabilità iniziale dei proiettili del 40%, quindi questo per tutte le armi, con quattro pezzi, beh, quando si spara con un fucile di precisione senza usare il mirino in prima persona, tutti i nostri colpi saranno critici al 100%, ma non potremo eseguire colpi critici alla testa, sempre se non miriamo col mirino. Se vogliamo fare i colpi critici in testa dovremo usare il mirino, ma avremo la normale percentuale di critico, quindi niente di assicurato, e in questo caso perderemo la matematica certezza di fare critici al 100% quando mireremo al corpo, sempre con il mirino. Bene, alcune nuove armi. Questo è il fucile a pompa automatico chiamato Showstopper, che vi permette di essere molto più precisi, tanto più velocemente sparate. Quest'arma mi fa davvero, ma davvero paura. Guardate come il reticolo si restringe, tanto più si spara. Altra arma che mi fa paura, l'SVD. È un fucile di precisione molto stabile, pare davvero molto stabile. Credo si commenti da solo, guardate i danni. Sono tutte armi che avremo nella 1.3, con o senza DLC. E questo invece è il G36C, un nuovo fucile d'assalto e buongiorno. Mi pare piuttosto stabile, che dite? E questo è il momento del PP19. Mitra con 107 proiettili, in questo caso nel caricatore. Auguri anche qui. Anche se il reticolo si allarga parecchio, tanto più spariamo, mi sembra normale. Direi comunque una parolina sulle armi, a parte i vari nuovi modificatori su fucile a pompa, mitra, assalti e mitragliatrici di cui ho già parlato. Vedete quelle scritte tra parentesi? È una nuova statistica a base, che ci fa capire quanto danno in più aggiungiamo tramite talenti e mod. Quindi a sinistra abbiamo il danno base, in bianco. A destra il danno aggiuntivo fatto solo tra talenti e mod. Ok, diamo un'occhiata alla ricalibrazione delle armi. Altra novità nella 1.3. Chiaramente sempre accedendo dalla stazione di ricalibrazione potremo ricalibrare un talento per le armi, uno soltanto. Per farlo avremo bisogno di due cose. I weapon kit, i nuovi oggetti e i decrediti Phoenix che tornano in quanto valuta necessaria per ricalibrare almeno le armi. Quindi mettendo il caso che droppiamo un'arma che ha due talenti belli, ma uno non così buono, possiamo scegliere di cambiare uno di quei talenti con una delle scelte randomiche possibili a destra, come la normale ricalibrazione insomma. Ma una volta fatto questo possiamo decidere di continuare a ricalibrare solo quel talento se non saremmo contenti, oppure star bene così. Non potremo avere due talenti uguali. Chiaramente possiamo ricalibrare un talento sino ad un massimo di 6 volte. Altra cosa, possiamo ricalibrare anche uno dei talenti unici sbloccati senza requisiti, che continueranno a non avere requisiti anche nel caso in cui dovessimo cambiarlo. Altra cosetta al volo, si potranno usare gli equipaggiamenti della divisione per craftarsi altri materiali di alta gamma. Qualcuno ha detto parti elettroniche? Qui intanto vediamo un po' di gameplay della modalità underground esclusiva per chi acquista l'espansione. Questa è una sessione con una sola fase e di livello difficile, quindi con nemici di livello 32. Ricordo che le attività underground sono scalari, si possono affrontare da soli o in compagnia, e la difficoltà cambia a seconda della gente che entra con noi in missione. Quindi più gente c'è, più nemici saranno resistenti, come le normali missioni insomma. Bene, una volta abbattuto il boss finale, si potrà notare anche il potenziale drop, in questo caso un pezzo set a 214. Attenzione, perché ogni volta che si sale di un livello nel rank underground, si riceve una cassa sigillata. C'è anche una cesta fino per azione. Da notare che le casse che si ricevono ogni volta che si livella in underground, non sono basate sulla difficoltà nelle quali si ottengono, ma sono legate al nostro punteggio. Quindi se siamo, che ne so, di livello 200, difficilmente otterremo pezzi a 268, ecco. Ma se siamo a 255, come in questo caso, la possibilità c'è, come vedete da soli. D'accordo, adesso parliamo della nuova incursione, Tana del Drago. Questa sarà diversa rispetto alle prime incursioni, sarà più lunga nel senso che avrà più fasi e più boss da uccidere. Possiamo vedere una fase iniziale dove ci avviciniamo al primo scontro, ce la vedremo con i peggiori nemici possibili, secondo me i purificatori. Quindi mi raccomando, prepariamoci i vari ultimo rimedio, per esempio, non ce li dimentichiamo. Questa è la versione difficile, quindi quella a base di livello 32. Ricordo che sarà disponibile anche quella in molto difficile già da domani. Bene, dopo i primi passi ci troveremo alla prima vera fase di gioco dove dovremo eliminare i nemici. Attenzione perché quelli che dovremo tenere sott'occhio sono gli ingegneri, perché i cari ingegneri ci spediranno addosso a dei piccoli droni o macchine telecomandate, insomma, aggeggini con le ruote che magari, quando vediamo, possiamo pur considerare carini. Ma quando scoppiano, beh, auguri, fiamme ovunque. Ed è inutile che io vi stia a dire che i danni per fiamme non sono coperti dal nostro grado di armatura, ma dalla resistenza e danni speciali. Quindi penso che siano i primi nemici da eliminare, onestamente. Va bene, dopo aver fatto pulizia, ci troveremo ad affrontare ben quattro boss, i quattro cavalieri. Il consiglio su come eliminarli, potete immaginarli, colpire i loro serbatoi. Capite bene che, dopo aver eliminato tutti questi boss, ci beccheremo un drop per ognuno di loro. Questa è solo la modalità difficile base, immaginate, è a livello più alto. Questa, però, non è la fase finale dell'incursione. È solo una delle fasi. Il resto, beh, lo scopriremo a partire da domani. Ok, adesso una raffica di info veloci tratte dalle note della patch, che trovate sempre in descrizione. I boss nelle missioni in modalità difficile possono droppare il Caduceus. Aumentati gli slot a disposizione per la scorta, sono stati aumentati a 70. Ridotto il costo in crediti Phoenix per oggetti di alta gamma 204 e set 240, non si potrà più espellere un membro dal gruppo durante gli scontri con i boss. E fino a un minuto dopo il loro termine, ma non si applicherà a quelli assenti o fuori dall'area della missione, limite massimo della resistenza dei danni speciali è stato settato a 90%. Il bilanciamento dei sette sentinelle assalitore con due pezzi si ottiene un 10% di danni colpo alla testa, con tre si ottiene il 10% dei danni agli elite e solo con cinque pezzi si ottiene il rimanente 20% di colpi alla testa e 10% di danni agli elite, invece che avere tutto con tre pezzi, insomma. E per l'assalitore con due pezzi abbiamo il 10% di danno corazza ai nemici, con tre abbiamo il 20% dei danni critici e solo con cinque i rimanenti 10% per danni corazza e 30% per danni critici. Corretti, una miriade di bug tra i quali la distruzione degli oggetti e abilità dei compagni quando un giocatore usava il kit medico avendo il talento medico da campo. Attivo è una vera piago, ma davvero sono tantissimi bug che sono stati risolti e vi invito davvero a leggere l'articolo completo, vi ho riportato solo quelli più importanti secondo me. Va bene amici miei, è tutto, io vi ricordo che domani pomeriggio a partire dalle 15 sarò live sul canale di Every Eye e poi dalle 18 sul canale di Ubisoft Italia per giocare proprio a The Division in diretta streaming e parlare dell'aggiornamento 1.3 di Underground. Vi aspetto come sempre, grazie per essere stati in mia compagnia, Alien vi saluta, love and peace, agenti.